Riscoprire in ogni dimensione la figura femminile è fondamentale per Monsignor Moraglia, che ha inaugurato il ponte votivo per la Madonna della Salute con questo monito, pienamente condiviso anche dal primo cittadino. Secondo me la donna è davvero la rivoluzione silenziosa che sta raccogliendo la prospettiva. Quello che secondo me va fatto non dare lo spazio alle donne per obbligo con il famoso discorso del Quote Rosero, ma le donne vanno per i loro meriti, dobbiamo creare i servizi perché le donne possono partecipare alla vita collettiva, alla vita lavorativa, al fare carriera, ma per i loro meriti e allora perché loro possano farlo dobbiamo costruire quei servizi alla famiglia, ai bambini soprattutto, ma anche agli anziani, che liberino la donna anche nella propria condizione. E poi gli uomini devono fare un passaggio anche loro, lo dico a me stesso così cominciamo, devono farla mangiare anche loro, devono portare anche loro i bambini a scuola, devono pulire, fare quello che possono fare. Per Brugnaro però anche la sicurezza della donna va garantita. La sicurezza del decoro, dobbiamo ricordarcelo tutti, tutti, è la grande lezione della nostra civiltà e dobbiamo difendere la donna difendendo anche la sua sicurezza. Grazie.